Se compro una macchina modificata, posso riportarla alla sua originalità? Seguite questo video che imparerete qualcosa di interessante. Amici, bentornati sul canale 9000 Giri Elaborazioni. Oggi rispolveriamo il discorso Mini presentandovi una Mini particolare. Questa è una R58, si definisce Mini Coupé, lo si vede dalla caratteristica esterna, dove c'è appunto la cosa che colpisce di più, ecco quella per dire, sono due macchine coeve, fra l'altro con lo stesso motore, quella è una Mini GP che avete già visto in un paio di video, che domani è finita, è la famosa macchina che abbiamo dovuto ricostruire, che ci è arrivata in scatola di montaggio in sostanza, e quella è la versione GP. Questa, John Cooper Works, questa sempre John Cooper Works, ma è la versione Coupé. Se uno guarda le due macchine da questa posizione, la prima cosa che vede immediatamente è l'inclinazione del parabrezza, che rispetto alla versione, diciamo, 5 posti, ha un'inclinazione molto maggiore, mi sembra che abbia un'inclinazione di 15 gradi maggiore rispetto alla versione normale. Questo che cosa comporta? Ha comportato un abbassamento del tetto, quindi se anche uno guarda le due macchine come altezza, oltre al discorso dell'inclinazione, è 3 centimetri più bassa della versione normale. Quindi questa è una delle caratteristiche di questa macchina. Parte dalla scocca, dal pianale della versione cabrio, e poi è stata fatta questa specie di rivisitazione stilistica. A me viene in mente una macchina similare, potrebbe essere la Porsche 911, la Speedster, nata con il 930, poi il 964, pochissimi esemplari del 993, poi è stata abbandonata con le prime raffreddate ad acqua, quindi 996, 997, è stata ripresa recentemente con le ultime versioni. Soprattutto sulle versioni più vecchie, 930, 964, sono macchine d'altissima collezione. Cioè una Speedster di quegli anni, 300-400 mila euro, li vale assolutamente. Quindi partendo da questo concetto, ovviamente qua stiamo parlando di macchine diverse, valori diversi, però il concetto che di questa macchina non so quante ne abbiano prodotte, ma non penso ne abbiano prodotte, sono sempre macchine a tiratura limitata, un po' come il discorso della GP, di vabbè lo so, ne hanno prodotte 2000 esemplari, qua qualcosa di più, però sono sempre macchine di nicchia. Quindi un appassionato del marchio, così come il cliente della GP, stessa cosa questo cliente, a lui piaceva questo tipo di vettura, l'ha ricercata per trovarne una che gli andasse bene come caratteristiche, l'ha trovata e poi ce l'ha portata per, diciamo fra virgolette, sistemare le cose che non andavano. Allora, diciamo nel suo insieme la macchina va bene, non era certo messa nelle condizioni di questa dove abbia dovuto cambiargli il motore, tanto per intenderci, quindi il motore gira bene, la meccanica a grosso modo c'è. Ci sono determinate cose dove il cliente vuole fare un procedimento inverso rispetto a quello che tutti i clienti ci chiedono, cioè questa macchina è stata cambiata tutta la linea di scarico, è la prima cosa che ci chiedono i clienti. Il problema è che questa linea di scarico è stata, diciamo, è stato fatto quasi un tubo diretto, adesso casomai la sentiamo ed è francamente molto rumorosa. Ecco, come avete sentito, ci sono tanti clienti che adorano questo tipo di rumorosità. Questo cliente qua, che ha già qualche annetto in più, è già più o meno sulla mia età, va bene avere una macchina sportiva e tutto quanto, però questo tipo di rumorosità l'ho portata su io dalla sede, va in risonanza, dà veramente fastidio. Quindi dovremmo sicuramente riprendere la linea di scarico, oltretutto alla spia motore accesa, e dovremmo controllare che non abbiano sostituito il catalizzatore, o non abbiano tolto il catalizzatore, perché se così fosse, la prima cosa da fare è andare a rimettere un catalizzatore, quantomeno un catalizzatore metallico, per spegnere la spia, se no la macchina a livello di revisione non poteva passare la revisione. Ma al di là del catalizzatore, quello che dobbiamo andare a rimettere è almeno una parte, o sul centrale, o sul terminale, per andare a smorzare la rumorosità. Questa è la prima cosa che ci ha chiesto il cliente. La seconda è quella che, ovviamente, si vede abbastanza palesemente, la macchina è stata abbassata molto, gli sono stati montati dei distanziali, che sono questi piattelli. Ricordiamo che i distanziali non sono omologati, quindi la prima cosa che ci ha chiesto è togliere i distanziali e rimettere, oltretutto quello posteriore, è quasi esagerato, c'è la ruota che quasi esce dal passaruota, quindi al di là del omologato o non omologato, la parte posteriore comunque andrebbe sistemata. Il cliente ci ha chiesto di togliere i distanziali e poi di ripristinare quello che è l'assetto originale, perché qui hanno montato delle molle molto basse. Per fortuna, il cliente, quando ha acquistato la macchina, gli sono stati dati determinati pezzi, tipo le molle originali, non gli ammortizzatori, ammortizzatori, quindi cosa andremo a fare? Andremo a rimontare le molle di serie e andremo a acquistare e montare dei Bilstein B6, che sono degli ammortizzatori monotubo, che si vanno ad abbinare alla molla originale, in maniera tale da riportare l'altezza esattamente così come è uscita dalla fabbrica, recuperare un pochino di comfort, nonostante il fatto che la macchina comunque, a livello di direzionalità con dei Bilstein B6 sicuramente rimane sempre molto ben direzionabile. Altra cosa che dovremmo fare, togliere questi sedili, anche in questo caso per fortuna al cliente si è fatto consegnare sedili di serie, quindi ritornare il più possibile a quello che è l'originalità, quindi questi sedili, non so di che marca siano, però comunque sono sedili non certo quelli originali, sono stati montati con delle piastre, gli attacchi cinture sono anche abbastanza scomodi, andremo a togliere tutte e due queste sedute e rimonteremo le sedute originali. Quindi per la parte interna, poi verrà fatto un detailing interno, verrà pulito tutto quanto, la parte esterna come carrozzeria direi si presenta abbastanza bene, ci sono alcuni punti da riprendere, qua per dire il trasparente è saltato, ci sono delle piccole imperfezioni nella parte posteriore, però sono cose facilmente risolvibili, quindi quando andremo a verniciare o a riparare, ad esempio qua si vede chiaramente che la parte posteriore ha subito un urto, non è una cosa estremamente grave, però andrà ripresa questa parte, riverniciata la parte posteriore, e poi una volta sistemate le ammaccature, andrà poi lucidata tutta la carrozzeria e fatto il trattamento nanoprotettivo. Fintanto che sono qua, mi ero dimenticato prima, un'altra delle caratteristiche di questa macchina è questo spoilerino particolare che nessun'altra Mini ha, che si alza automaticamente quando la vettura arriva a 80 km all'ora, quindi questo è stato studiato in maniera specifica per avere uno schiacciamento dalla parte posteriore oltre una certa velocità. L'ho provato, funziona perfettamente, quindi da questo punto di vista non c'è da fare altri interventi. Quindi in sostanza la macchina, pur con la sua intierezza, si presenta bene, però bisogna intervenire a seconda dei gusti del cliente per riportare l'originale. Quindi la sostanza di questo video è non è detto che tutte le modifiche che uno desidera fare sulla macchina poi nel momento in cui decide di venderla piacciono poi a chi l'acquista. Ci sono alcune cose che vengono apprezzate, la macchina può avere un valore aggiunto, però ci sono anche tante situazioni e noi per questo motivo consigliamo ai clienti quando fate delle modifiche, che siano lo scarico, che siano i sedili, piuttosto che gli ammortizzatori, o le molle originali, quello che volete. Chiaro, se sono cose usurate, le buttiamo, ma per il resto tenetevi i pezzi, perché nel momento in cui voi vendete la macchina, soprattutto se la macchina la date a un concessionario, è abbastanza verosimile che vi richiedono la macchina il più originale possibile. E questo appunto, se voi avete i pezzi originali, si ripristina in maniera molto semplice, se un i pezzi, come ci chiedono tante volte, li buttate via, poi diventa veramente complicato o molto costoso riportare l'originale. Quindi le modifiche servono e piacciono, è come un vestito, uno compra un vestito perché è soddisfatto e perché si piace vedendosi allo specchio. Più o meno il concetto delle modifiche che vengono fatte sulle macchine, sono lavori estremamente personali. Io direi, anche per questa puntata è tutto, adesso lasciamo queste due macchine, questa entrerà in officina, quella invece ritornerà al legittimo proprietario. Come vi consiglio sempre, consultate il nostro sito www.milagiri.it, soprattutto consultando la parte archivio e elaborazione, dove andremo a inserire anche questa vettura. Quando termineremo il lavoro, analogamente alla mini GP, faremo una puntata conclusiva per farvi vedere come l'abbiamo ripristinata. Per qualunque informazione, mi potete trovare in ufficio lo 027383175. Cliccate sul campanella e iscrivetevi al video per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo. Un saluto, ciao! Grazie a tutti!